Attualmente in Europa 5,5 milioni di giovani sotto i 25 anni sono disoccupati, ovvero quasi il 23%, e in alcuni paesi come la Spagna e la Grecia la situazione è ancora più grave, con un tasso di disoccupazione giovanile che supera il 50%. Ma ci sono delle soluzioni. Una di queste è la Garanzia Europea per la Gioventù. La Commissione Europea ha identificato il programma Garanzia Europea per la Gioventù destinato ai giovani sotto i 25 anni come uno dei metodi migliori per ridurre la disoccupazione. Per questo ha chiesto a tutti i paesi dell'Unione Europea di attuare programmi come questo. Con la Garanzia Europea per la Gioventù, nessuno è escluso. Ogni paese si assicura che ogni giovane europeo riceva un posto di lavoro, un apprendistato, uno stage formativo oppure che possa frequentare un corso di formazione supplementare entro quattro mesi dal completamento del percorso scolastico o dall'ultimo impiego svolto. Alcuni paesi come la Finlandia e l'Austria già lo fanno. E funziona. L'impostazione del programma potrebbe differire da paese a paese, in quanto non esiste un modello valido per tutti i paesi. Ciò che conta è il risultato, ovvero che non ci siano più giovani lasciati soli e senza ricevere alcun sostegno o senza avere la possibilità di trovare un buon lavoro. L'Unione Europea sta cercando di aiutare i paesi a rendere operativo il programma, ma anche voi ci potete aiutare facendo sentire la vostra voce e promuovendo le garanzie per i giovani nel vostro paese.